Stavo in video lezione ed il prof mi stava interrogando. Non avevo studiato quindi avevo il libro sotto lo schermo e la videocamera spenta. Il problema è che si sentiva il rumore delle pagine ed i miei compagni di scuola lo hanno detto al professor. Mi sono giustificata con il fatto che mentre stavo ripassando avevo preso un manga e per tenere le mani occupate lo stavo sfogliando. Per fortuna mi ha creduto.